ciao e benvenuto alla serie di tutorial breas sul vivo 65 in questo video esamineremo le caratteristiche e le funzionalità del pannello destro l'interruttore di alimentazione si trova qui nella sezione di alimentazione accanto a questo è presente un ingresso di alimentazione cc questo è compatibile con una batteria esterna è disponibile anche un adattatore che consente di collegare il dispositivo a una presa di corrente standard da 12 volt dell'automobile questo è l'ingresso per il cavo di alimentazione di rete a c quando è collegato alla rete elettrica c'è un fermaglio che impedisce lo scollegamento accidentale del cavo di alimentazione questo è l'ingresso dell'o2 in cui è possibile immettere fino a 15 litri al minuto di ossigeno a basso flusso questa è l'uscita dell'aria del dispositivo a cui collegare il circuito respiratorio del paziente il vivo 65 può essere configurato con perdita di un singolo tubo valvola di espirazione di un singolo tubo con un circuito a doppio tubo questo è il collegamento al circuito della valvola di espirazione il dispositivo è attualmente configurato con l'inserto per tubo singolo installato da utilizzare per un circuito a perdita per tubo singolo o con valvola di espirazione attiva si noti che l'inserto per tubo singolo non deve essere cambiato tra un paziente e l'altro per rimuovere l'inserto per tubo singolo ruotare il gruppo esterno in senso anti orario ed estrarlo dal dispositivo questa è la valvola del circuito del tubo singolo viene utilizzata per i circuiti a tubo singolo ad espirazione passiva o attiva per un circuito a doppio tubo si utilizza un inserto per adulti e un inserto pediatrico il tipo di inserto è indicato da una figura sulla parte esterna e anche sulla scatola dell'inserto da utilizzare si noti che gli inserti a doppio tubo sono monopaziente all'interno dell'alloggiamento della valvola è presente una guarnizione in gomma assicurarsi che sia correttamente posizionata prima di inserire la valvola il vivo 65 segnalerà un errore se questa guarnizione manca o è posizionata in modo errato per inserire la valvola scelta farla scorrere in posizione l'inserimento avverrà solo con l'orientamento corretto una volta inserita completamente ruotare l'anello esterno in senso orario in posizione di blocco questa valvola fornisce il lato espiratorio del circuito a due tubi è importante notare che queste valvole si basano sulla modalità di funzionamento del vivo 65 non si basano sulle dimensioni e sull'orientamento della valvola non si basano sulla taglia sull'età o su altre caratteristiche del paziente se il vivo 65 è in modalità pediatrica è necessario installare un inserto pediatrico a doppio tubo se si desidera utilizzare un circuito a doppio tubo il vivo 65 riconosce quale valvola è presente nella macchina quindi non è necessario inserirla nella prescrizione del paziente nella parte anteriore del pannello laterale destro del vivo 65 sono presenti quattro connessioni da destra a sinistra la prima è la presa verde che serve per collegare l'accessorio di avvio e arresto a distanza la presa blu che collega l'accessorio modulo masimo spo2 questo può essere collegato a diversi tipi di sonde e sensori masimo la presa gialla serve per collegare l'accessorio masimo per il monitoraggio della co2 a fine respiro prima dell'uso questo sensore deve essere azzerato tramite l'opzione nel menu altri del dispositivo infine il connettore bianco è il collegamento fio 2 il vivo 65 può misurare la percentuale di ossigeno nell'aria erogata al paziente utilizzando un sensore esterno il sensore viene quindi inserito nella connessione a t per misurare lo 2 che passa attraverso l'uscita del singolo tubo infine la misurazione della fio 2 deve essere calibrata nel menu altri del dispositivo assicurarsi di orientare correttamente la spina guida ogni presa accetta solo il connettore corretto nell'orientamento corretto non tentare di forzare i connettori nelle prese per rimuovere la connessione è sufficiente tirare la guaina esterna della spina percebloccarla alla presa la spina dovrebbe rientrare facilmente non rimuovere con forza la spina con questo si conclude l'esercitazione sul pannello destro del breas vivo 65 per ulteriori informazioni e altri video tutorial su come utilizzare vivo 65 visitate il nostro sito web education by breas.com grazie per l'attenzione